Una donna di Nago, ex dirigente di istituto scolastico, è la prima in Italia che ha ottenuto in gestione un bene confiscato dallo Stato alla malavita organizzata. Rosticchio, locale di fritti e piatti romani take away, situato nel cuore di Trastevere, ora è pronto a cominciare una nuova vita, sotto il nome dei Carbonari, ha raccontato Cristina Tonelli, preside dell'istituto alberghiero di Tor Carbone, che tramite la cooperativa Alfa 53 gestirà il locale. Una vita stavolta virtuosissima, grazie ai nostri studenti ai quali il Ministero di Giustizia ha concesso la licenza commerciale. Trentina di nascita, ma cittadina romana ormai da diversi anni, Tonelli ha lavorato dapprima come insegnante nella scuola primaria, fino ad arrivare alla dirigenza dell'istituto Tor Bella Monaca e in seguito dell'alberghiero alla periferia di Roma, dove è molto apprezzata per la professionalità e l'entusiasmo. Abbiamo accettato questa sfida per dare un riferimento lavorativo ai nostri ragazzi, ha precisato la dirigente durante l'inaugurazione del locale, affinché ognuno di loro possa essere d'aiuto per le società future. Il rosticchio, confiscato più di un anno fa a un clan dell'Andrangheta, che si nascondeva dietro l'insegna di via San Cosimato per i suoi loschi affari, riciclaggio in primis, ora è gestito dagli studenti, che supervisionati da professori ed esperti del settore, prepareranno pizza, crocchette e piatti tipici romani. Una vera e propria attività imprenditoriale che darà impiego a quattro ragazzi tra bancone e cucina, i quali si avvicenderanno ogni settimana, e che verrà utilizzata dall'istituto anche come centro di alternanza scuola-lavoro. All'inaugurazione, a cui erano presenti tra gli altri il sindaco di Roma, Virginia Raggi, e molte altre autorità, è intervenuta anche l'assessore alla cultura del comune di Nagotorbole, Luisa Rigatti, vicina da sempre ai valori della legalità e di una cultura democratica, e legata alla Tonelli da una profonda amicizia.